Riccardo Santoro, un ricordo su Agostino di Bartolomelli? I ricordi sono tantissimi, lo ripeto più volte, il mio rammatico è di non averlo conosciuto di persona, però lo ricordiamo tramite questo splendido, tramite questo splendido, come se lo avessi ancora qui, grande campione, grande uomo, lo è stato nella vita, un piccolo gioco, quando si gioca a fonte. E' stato nella vita e nello sport, c'è qualcuno che ci risolviva, ed è bello ricordarlo per quello che è stato, grandissima te.